Ecco, bentornati in studio. Saluto subito il Presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. Buonasera. Dottor Del Debbio, buonasera. Un saluto anche affettoso al suo pubblico. Grazie. Il mio pubblico, come sente, ricambia. Parleremo di tutto, anche del reddito ovviamente, ma prima voglio chiedergli, sono curioso, com'ha festeggiato la vittoria in Sardegna. Beh, abbiamo avuto poco da festeggiare perché gli scutini si sono protratti sino a notte fonda, quindi ci siamo concessi qualche mirto, qualche cannonau, qualche poche ore di sonno. Tutta roba buona. Senta, la Meloni non sembra averla presa, sembra averla presa un po' con filosofia. Guardi cosa le faccio vedere e commentiamo. So, insomma, che in questa occasione ci si aspetta dal Presidente del Consiglio un intervento leggero, diciamo divertente. Io non ero leggera manco a 15 anni. figuratevi dopo 16 mesi che faccio il Presidente del Consiglio, in tutto questo voi mi invitate nel giorno in cui perdo le elezioni in Sardegna e sto pure facendo la quaresima e non posso neanche affogare i miei dispiaceri nell'alcol. Per cui non è la giornata oggettivamente migliore per aspettarsi da me della simpatia e dell'allegria. E' andata così. Le cose che mi fanno arrabbiare in assoluto di più sono la slealtà, l'umiliazione e perdere a burraco, cosa che di recente mi sta capitando anche abbastanza spesso. Quindi diciamo che quest'anno non è partito benissimo complessivamente. E sia chiaro che non mi lancerò in una danza questa sera perché, insomma, diciamo non è proprio il giorno giusto. Ma vi ringrazio se non altro, e chiudo, vi ringrazio se non altro per il buon auspicio perché mi avete invitato a questa cena e poi dopo che mi avete invitato mi avete spiegato che dopo due giorni che era venuto Mario Draghi gli avete portato una sfiga senza precedenti. Quindi diciamo farò del mio meglio per allontanarmi da questa sala il prima possibile per cercare di rimanere un pochino a governare questa nazione. Grazie davvero a voi. Presidente Conte Che dice il Presidente Conte? No, dico che dopo varie manifestazioni di arroganza, tracotanza al governo, anche esibite addirittura per la campagna elettorale in Sardegna, queste battute simpatiche fanno parte di una strategia comunicativa. Non credo però che i cittadini si lasceranno ammaliare da questa viscomica della Presidente del Consiglio. Guardano i problemi irrisolti, alle tante promesse mancate, alle tante giravolte e al peggioramento delle condizioni economiche complessive del Paese, alla sanità disastrata. Dovunque ci giriamo, noi raccogliamo, noi giriamo i territori, non siamo come la Presidente del Consiglio e anche nella campagna di Sardegna. Adesso io sono in Abruzzo, noi raccogliamo il grido di allarme, di sofferenza, di angoscia dei cittadini, delle famiglie, di tutti gli strati e le fasce sociali. Attenzione, non solo di quelle lì più fragili e vulnerabili. Ormai il ceto medio, diciamolo chiaramente in Italia, sta soffrendo. Non riesce più ad arrivare a fine mese, prima si poteva consentire una palestra, si poteva consentire di andare fuori al ristorante, un cinema, un teatro. Oggi anche il ceto medio è in una situazione di grave repressione economica. Senta, la vittoria della Todd certamente mette lei in pole position come leader del centro-sinistra. Certo, lei non mi può dire di sì. Ah, guardi, questa... Però... No, ma non è questore, guardi. Questa questione del leader, non del centro-sinistra, dell'area progressista, attenzione. Sì, area progressista. Questa questione del leader appassiona tanto i giornalisti, i giornali. È una questione che si costruisce, insomma, con battute e risposte. A me e al Movimento 5 Stelle a noi interessa la sostanza di un percorso politico, di traiettorie politiche dove stiamo lavorando per costruire un'alternativa di governo e lo stiamo facendo sui temi, sui programmi, sui progetti. Lo stiamo facendo cercando di costruire delle politiche del lavoro efficaci che contrastino lo sfruttamento, i sottopagati, il lavoro precario. Lo stiamo facendo nel comparto della sanità che in Italia è disastrato. Guardi, è una cosa terribile rispetto, lo sappiamo, lo diciamo anche, lo iniziamo a dire sempre più, in modo sempre più forte e vigoroso. Lì si è attesa infinite, prestazioni essenziali non garantite, ospedali che chiudono. E anche il problema dell'istruzione adesso inizia a preoccupare, perché si accorpano edifici scolastici e a quel punto lì, voglio dire, i bambini già piccoli, nei piccoli centri, iniziano a conoscere cosa significa il pendolarismo per andare a scuola. C'è tutta una serie di attività, di questioni che i cittadini toccano quotidianamente con mano, che non vanno bene. Questo governo fin qui, Giorgia Meloni, ha rappresentato, ha offerto una visione edulcorata della realtà. Dicendo addirittura, facendo credere ai cittadini che stavano correndo, il paese che correva sopra la media europea, il paese che stava correndo meglio in Europa, stava dicendo che otteneva dei grandi risultati. Ogni volta che ha fatto un summit internazionale, ha detto che c'era la svolta di credibilità dell'Italia. I cittadini però, dopo 16 mesi, iniziano a vedere che le cose vanno male, i conti non tornano, è il caso di dirlo, a fine mese non ci arrivano, l'Italia conta sempre meno, ogni volta che c'è un appuntamento, da ultimo la legge, l'autorità anticorruzione, l'Italia è arrivata a 4 su 4, e così è stato ultimo anche per quanto riguarda la sede dell'Expo. Queste sono cose che possono apparire astratte, ma diventare sede dell'Expo, diventare sede dell'autorità anticorruzione, significava attirare investimenti, capitali, centinaia e centinaia di funzionari europei, ricchezza che va via, e questo a dispetto dei cantori di quest'attuale governo, che parlavano di una rinnovata credibilità, ritrovata credibilità dell'Italia, dove sta? Beh, però la stampa internazionale, come lei sa, a varie riprese, ha scritto sulla credibilità di Giorgia Meloni, no? No, guardi, è diverso. La stampa, e soprattutto parliamo delle testate che esprimono l'establish internazionale, hanno applaudito Giorgia Meloni che si inchinata a Bruxelles, hanno applaudito che Giorgia Meloni che cerca continuamente di essere ricevuta a Washington, ma questo fa bene, voglio dire, nella misura in cui Giorgia Meloni vuole accreditarsi nell'establishment europeo e internazionale, ma non ai cittadini che guardano, oltre che all'interesse europeo, all'interesse nazionale. Cosa ha fatto Giorgia Meloni in Europa? E cosa ha fatto a livello internazionale se non consentire di essere in prima fila per forniture militari all'Ucraina? Grazie, che nell'ambito della Nato se la coccolano e se la carezzano, perché lei è assolutamente pedistico a ricevere le istruzioni. Allora? A Bruxelles e a Washington. Siamo andati in Sardegna, siamo andati ad Assemini, Roccaforte, Grillina, guardi cosa ci hanno detto sulla vittoria. Il servizio è di Lorenzo Caroselli. Dottor Del Debbio, non voglio essere scortese nei suoi confronti, Assemini ci tengo perché i cittadini sardi ci tengono. Mi scuso ma avevo sbagliato, mi scuso. Mi scuso con lei e con i cittadini sardi. Vediamolo. Buongiorno. Posso sedermi? Sì, prego, prego. Alessandra Todde. Vedi come sorridente, contentissima, no? Ad Assemini, siete tutti un po' grillini storicamente, perché nel 2013 questo è stato il primo comune che i grillini si presero, no? Sì, è andato fortissimo. È andato fortissimo. Ma perché lo votaste? Diciamo per una cosa nuova. E anche perché avevano promesso il reddito di cittadinanza e l'avevano anche approfato. Adesso siete arrivati con la Todde, che è grillina. Esatto. E questa è la sede del Movimento 5 Stelle di Assemini. Molti sono grillini. Ma perché li votaroni? Per avere il reddito di cittadinanza. Lei li ha votati? L'altra volta sì. E stavolta la Todde posso chiedere se l'ha votata? Sì, sì. In Sardegna in 10.000 hanno perso il reddito di cittadinanza. Secondo lei hanno votato i 5 Stelle, quindi la Todde nella speranza di riaverlo? Certamente, perché io conoscevo persone, le conosco ancora oggi, che prendevano il reddito di cittadinanza e non volessero essere assicurati perché non si facevano il doppio dello stipendio in nero. Da Assemini ci spostiamo a Cagliari e la situazione non cambia. Quanti hanno votato la Todde per avere il reddito? Io penso molto. Guardi qua, l'attacco al reddito di cittadinanza non lo condivido. Essere poveri non è una colpa. Chiaramente il reddito di cittadinanza è anche un modo per andare avanti. Quanti di quelli che l'hanno votata, l'hanno votata per il reddito di cittadinanza? Perché lei difendeva il reddito di cittadinanza. Penso parecchi. E perché veste sempre dei soldi che promette a persone che sono in difficoltà? Ecco, Conte, ci dica un po' su questa storia che lei ha detto sul reddito di cittadinanza. Guardi, dottor Dendebio, mi faccia fare una premessa. Faccia tutte le premesse che vuole. Allora, il reddito di cittadinanza è stato fortemente demonizzato da questo governo, da queste forze di maggioranza, dicendo addirittura, e questa è un'ignominia, è un'infamia, che noi l'abbiamo introdotto per realizzare uno scambio elettorale, cioè l'abbiamo fatto per attrarre voti elettorali dalle fasce più deboli della popolazione. Ora, scambio elettorale è una cosa indegna, perché? Perché stiamo parlando non di una misura, una provvidenza che io rilascio agli amici, a quelli che vengono ovviamente in cambio di qualcosa, addirittura con scambi diretti tra le persone, tra chi cerca il voto e chi lo tiene. Qui stiamo parlando di una legge generale ed astratta, che in tutta Europa, noi l'abbiamo introdotta per ultimi in Italia, andava fatto prima. Quindi pensare che uno realizzi uno scambio politico-elettorale attraverso la legge generale ed astratta, per chiunque si trovi in una condizione di povertà assoluta, è una stupidaggine infinita. Se però questo fosse il ragionamento, ragionamento che si è fatto in tutto il mondo, dovunque l'hanno introdotto, io dico, e lo sottoscrivo, mi vanto di introdurre una legge generale ed astratta per chiunque si trovi in condizione di povertà assoluta, che non riesce a mangiare, piuttosto che fare uno scambio, quello sia elettorale, indegno, per quanto riguarda le misure che questo governo ha introdotto a favore di evasori, corrotti, a favore di coloro che abusano del potere pubblico e funzionari, ai quali hanno cancellato l'abuso di ufficio. Ecco, quelle sono cose indegne, di fronte alle quali noi prendiamo le distanze. Invece introdurre misure, poi potevano essere migliorate, ma demonizzare i poveri, anziché fare la lotta alla povertà, vuol dire che non sei un politico, vuol dire che stai lì a fare altro, perché se la politica non è cercare di trovare soluzioni, perché è in difficoltà, è meglio starsene a casa, mi creda. Ma senta, Presidente, alle elezioni politiche c'è un... non so quando saranno, ma comunque non sono domattina, no? E la misura generale nazionale si fa se si ha il governo, o se si trova un accordo col governo dall'opposizione. Lei intende anche il livello regionale come livello in cui inserire misure di questo tipo? Guardi, dottor Del Debbio, vogliamo parlare della realtà o vogliamo parlare della narrativa che si fa? Allora, la realtà è che oggi il governo, ad esempio, rispetto alla platea delle condizioni di famiglie, diciamo, in povertà assoluta, lascia senza nessun aiuto, sovvenzione, pure temporaneo, oltre 500.000 nuclei familiari. Attenzione che il governo riconosce che sono in condizioni di povertà assoluta, semplicemente, siccome li ha qualificati astrattamente come occupabili, indipendentemente dal fatto che ci sia in quel territorio o no un'occupazione offerta, cioè ci sono dei territori in cui l'occupazione non si trova, tu comunque sei in condizioni di povertà assoluta, sei occupabile, non ti do nulla, muori di fame, giusto? Allora, questo discorso, come le persone oggi che stanno morendo di fame, cosa fanno? Lo vediamo se andiamo alle file della catena di solidarietà, dell'associazionismo non profit, dalla Caritas in giù, o in giù che dir si voglia. Cioè, noi vediamo oggi, e basta girare, soltanto che Giorgia Meloni è arroccata nelle stanze dorate di Palazzo Chigi e queste cose non gliele dicono, non le sa, ma oggi se uno va di fronte a una mezza Caritas, vede già che cambia un po' la tipologia delle persone. Ci sono intere famiglie che stanno lì a fare la fila, non è più il senza dimora. In questo momento Caritas e questi centi stanno sovvenzionando, altrimenti queste persone non hanno di che mangiare. Quindi noi diciamo che siamo assolutamente disponibili a lavorare anche a livello regionale, dovunque ci sarà data possibilità, per rinforzare. Ma addirittura vogliamo andare in Europa, visto che c'erano tutti i paesi europei, allora stabiliamo in Europa questo criterio del reddito europeo di dignità di cittadinanza, visto che abbiamo dei governanti, dal mio punto di vista, ottusi, allora lavoriamo e facciamo l'Italia, al pari di tutti gli altri paesi europei, una misura europea universale. Chiarissimo, chiarissimo. Senta, che mi dice di Calenda che lascia Renzi e ora vuol dialogare con voi? Bella domanda. Io dico sempre, Calenda bisogna capire che cosa vuol fare da grande, prima o poi ce lo dirà, sperando che non cambi idea, insomma, bontà sua, si faccia una riunione interna, decide cosa vogliono fare da grandi, perché li vediamo continuamente oscillare. Adesso, vede, non lo dico per amor di polemica, perché a me interessano, ripeto, traiettorie politiche, progetti politici seri. Però per fare un progetto politico serio, per dire ai cittadini, dateci, se volete, il voto e noi faremo questo, questo e questo, bisogna avere una squadra di persone affidabili. Se c'è qualcuno che sta lì e scarta, o addirittura, come ha fatto Renzi, Italia Viva, sta lì a condizionarti, a ricattarti e ti fa cadere al primo sospiro perché non ha uno spazio politico, noi non siamo disponibili a governare a queste condizioni. Chiarissimo. E faremo non governare. Ecco perché, io non è che faccio il prezioso, però dico, se prendiamo il movimento, se prende impegni con i cittadini, deve essere conseguente. Si realizza quegli impegni. Perché stiamo vedendo... Prego. No, mi sembra che siamo distanti, allora. E questa è la sua valutazione politica. Interroghi Calenda più che altro, più che me su questo. No, ma certo, certo, no, no, è un'impressione, ovviamente, sì. Chiederò anche a Calenda. Veniamo al caso dei manganelli. Prima sentiamo più altre dosi, oggi in aula, e poi la faccio commentare. Prego. Tutti auspichiamo che le manifestazioni pubbliche si svolgano pacificamente e senza incidenti. E quando si giunge al contatto fisico con ragazzi minorenni è comunque una sconfitta ed è ancora più necessario svolgere ogni verifica con puntualità, obiettività e trasparenza. consentitemi tuttavia di sottolineare il diritto degli appartenenti alle forze di polizia di non subire processi sommari. I dati sulle manifestazioni svolte smentiscono in maniera inequivocabile una presunta strategia di contrazione della libertà di espressione in Italia. Va pertanto fermamente respinta ogni suggestione che vi sia un disegno del Governo per reprimere il dissenso politico e che questo disegno sia eseguito dalle forze di polizia nel corso dei servizi di ordine pubblico. Che mi dice, Presidente? Le faccio due considerazioni. Primo, assolutamente d'accordo sul fatto che non si fanno processi sommari alla polizia. Tant'è che il Movimento 5 Stelle non ha attaccato assolutamente le forze di polizia. C'è stata, lo voglio dire chiaramente davanti ai telespettatori, una dichiarazione di una consigliera regionale toscana, le parole l'hanno servita male, laddove ha fatto un'uscita del tutto inaccettabile e comunque si prestava fraintendimenti e è tornata e si è scusata contro le forze di polizia. Io l'ho dichiarato da subito, noi siamo con le forze di polizia. Quello che attribuisco al Governo è la responsabilità collettiva invece di questo clima repressivo e qui Piante Dossi non dice il vero. Perché, mi dica un attimo, nel decreto sicurezza, tra le altre norme, c'è una norma che oggi qualifica come reato penale con pene detentive serie chiunque si renda responsabile, ad esempio una manifestazione, per ragione di senso politico, di un blocco stradale, intralcia il traffico. Prima era un illecito amministrativo e così varie altre norme contenute in quel decreto, disegno di legge sulla sicurezza introdotto dal Governo. Ecco, quelle creano quelle norme nel complesso ed altre. Vi ricordate il famoso Reparti, la norma su Reparti, che poi nel decreto addirittura sulla gazzetta ufficiale il Governo fu costretto a riformularla, che addirittura vietava il raduno di 50 e più persone per ascoltare musica, una cosa folle. Cioè, c'è dall'inizio una impronta autoritaria, ideologica, direi, questo Governo più o meno consapevolmente, ma io direi molto consapevolmente, dissemina quella norme che crea un clima repressivo. Poi aggiungo un'ultima cosa, ma guardate che di fronte ai fatti di Pisa è ovvio che noi stiamo con le forze di polizia, ma che quando c'è di fronte a dei ragazzi a volto scoperto che manifestano in modo pacifico una reazione del genere vanno fatti gli accertamenti e vanno accertate anche le responsabilità singole e la forza della tutela del lavoro dei sacrifici delle forze di polizia che ci spinge a prendere distanze da singoli comportamenti. Attenzione, queste dichiarazioni pelose degli esponenti di maggioranza anche della Presidente Giorgia Meloni a favore protettiva della polizia suonano strane poi se consideriamo che quando c'è stato il Vice Ministro Bignami che di fronte a famiglie ricorda lei in Emilia Romagna le famiglie che hanno subito i danni dell'alluvione che in modo composto garbato volevano alzare un dito per far sentire la loro voce per i ritardi e gli aiuti in presenza c'era la passarella di Giorgia Meloni con a fianco la Fonderlai cercavano di far sentire la loro voce Bignami Vice Ministro quello che si diverte nei festini a vestirsi da nazista diede degli incompetenti di fronte a delle persone che ascoltavano e testimoni vari alle forze di polizia perché non intervenivano a soffocare questa manifestazione di senso quindi dico al governo attenzione attenzione siamo lì e guardiamo prima se vogliamo veramente essere seri a quelli che sono comportamenti inaccettabili e dichiarazioni pelose a fuori della forza di polizia non facciamone semplicemente quando ci sono queste passerelle Presidente la ringrazio le auguro buon lavoro e a presto grazie buonasera buonasera buonasera